Il modo migliore per coniugare l'etica che è la prima molla del lavoro del medico e tutti coloro che lavorano in sanità, non solo del medico, con il risparmio è fare le cose per bene, con qualità. È la qualità che fa risparmiare, non è il taglio sconsiderato e lineare come spesso si fa per semplicità perché non si vuole analizzare, perché non si vuole distinguere le spighe di grano dalla gramigna, per usare un termine evangelico. Quindi bisogna fare le cose per bene, per fare le cose per bene occorre grande pazienza e grande volontà di eliminare gli egoismi, eliminare gli interessi personali o di pochi per avere la certezza di raggiungere invece l'interesse e il bene comune. Io spesso discuto con i due direttori dell'azienda Pugliese Ciaccio e dei Mater Domini perché non mettendo insieme, non integrando funzionalmente le loro competenze e le loro capacità, ma restando ognuno sul proprio punto, stanno praticamente rubando sostanzialmente delle risorse al sistema di Catanzaro e quindi tutta la regione. Questo è il tema nazionale dell'AMMI, Associazione Moglia Medico Italiana, che è un'associazione che lavora molto in ambito sanitario, sia promuovendo l'educazione che la cultura, in ambito soprattutto di prevenzione. Riesce un po' a preludere anche quelli che sono i temi più scottanti in ambito proprio sanitario, quasi i temi emergenti. Quest'anno proprio ha sposato questo tema forte, un tema di forte impatto sociale, soprattutto in una regione come la nostra, che è una regione in piano di rientro. La domanda di come coniugare questa riduzione delle risorse, questa politica così restrittiva con una buona salute, una salute che rispetti soprattutto il paziente, ma che rispetta anche l'articolo 32 della Costituzione. Beh, probabilmente per quanto riguardano i medici uno sforzo possiamo farlo. Gli economisti dicono che per migliorare il benessere bisogna riumanizzare la medicina. Quindi questo è il nostro sforzo, creare un'alleanza con il paziente, un'alleanza terapeutica col paziente, mettere al centro della nostra intenzione proprio il paziente. Paziente uomo, paziente bambino, per quanto mi riguarda sono pediatra, quindi sicuramente paziente bambino. Comunicare meglio, perché anche la comunicazione deve essere uno dei primi nostri obiettivi. Comunicare meglio non soltanto col paziente, ma comunicare meglio anche all'interno della nostra echipa, all'interno del nostro lavoro. E questo sicuramente già potrebbe migliorare e potrebbe dare una maggiore gratificazione al cittadino, rendendolo anche protagonista in un certo qual modo, condividendo con lui le difficoltà che la sanità in questo momento sta vivendo. E' difficile, perché il nostro ruolo di medico è un ruolo estremamente complesso, perché di fronte noi abbiamo un paziente che ha determinate necessità, soprattutto se si tratta di un paziente, sia il suo bambino o adulto, con una patologia cronica, che magari ha dei bisogni particolari che possono essere legati alla patologia stessa, ha dei bisogni anche sociali, dei sussidi, delle strutture adeguate per poter meglio gestire la patologia che è in atto. E purtroppo, si tratta anche di un paziente o di un bambino che vive in Calabria, non vive a Parma, non vive a Pavia, dove ci sono sicuramente delle strutture più adeguate. Non intendo dire soltanto struttura sanitaria, ma struttura a 360 gradi.